Immediato riscatto per la Igor di Massimo Barbolini che conquista la seconda vittoria per 3-0 in altrettanti match della serie di semifinale Scudetto contro Busto Arsizio. Le azzurre, protagoniste di una grande prova corale, superano le Lombarde con 33 punti del duo Plagg 14 e Guon 19. Tra le ospiti la più positiva è ancora una volta Gennari, autrice di 11 punti con un buon 47% in fase offensiva. Davvero abbastanza semplice il match per le Igorine che sono state brave ad incanalare la partita sui giusti binari. Praticamente dall'inizio subito 7-1, 10-5 e primo set conquistato 25-19 stesso Copione anche nel secondo parziale con Piccinini che sale in cattedra. Egon fa il bello ed il cattivo tempo e chiude sul 25-18. Il set più equilibrato è il terzo in cui Busto prova una reazione, regge da squadra ospite fino al 23-21 prima che però un errore in attacco di Stufi valga il 25-22 per la Igor e di conseguenza il 3-0. Era importante vincere le parole di Barbolini per continuare il percorso positivo nella serie. Non avevo dubbi che sarebbe arrivata una reazione dopo la sconfitta di giovedì, anche perché il cammino della squadra negli ultimi 50 giorni è stato eccezionale con 12 vittorie in 13 partite. Ora non diamo nulla per scontato, ci serve un altro successo per chiudere la serie e conquistare la finale Scudetto.